Il professor Marco De Vincentis, direttore dell'unità operativa complessa di Otorino Laringoiatria B del Policlinico Umberto I di Roma e direttore della scuola di specializzazione di Otorino Laringoiatria dell'Università Sapienza, ci descrive l'intervento di laringectomia totale e ci presenta i pazienti che grazie all'applicazione di protesi fonatorie e alla riabilitazione hanno recuperato la voce e oggi si dilettano a cantare nel coro del Policlinico, diretto dal maestro Francesco Tatangelo. Seguo questi straordinari pazienti a questo processo riabilitativo che gli dà la possibilità di essere inseriti dal punto di vista sociale. Noi sappiamo che questi pazienti hanno spesso difficoltà di inserirsi, quindi l'isolamento sociale porta spesso a stare di ansia, depressione e con il passare del tempo anche al decadimento cognitivo. Un elemento da considerare è proprio l'utilizzazione della musica in termini terapeutico per migliorare la fonazione del paziente e quindi la vita di relazione. Ma un elemento importante è che utilizziamo una tecnica particolare che ci permette di intonare note di diversa altezza e questa modulazione della frequenza del suono viene applicato anche nel linguaggio parlato e quindi è un elemento fondamentale non solo ludico, ricreativo ma veramente riabilitativo. Sono stato operato dal professor De Vincentis 12 anni fa e ho riniziato la riabilitazione con il dottor Zadangelo. Mi ha dato molto beneficio per rifare una vita normale. Sono stato operato circa cinque anni fa dal professor Minni e quattro anni fa ho iniziato l'abilitazione con il dottor Zadangelo che ci ha cominciato a pagandare e ha aiutato tanto per poter parlare. Loro sono dei pazienti con cui il destino è stato avverso perché hanno subito un intervento mutilante, cioè hanno fatto una laringettomia totale. Ora, quando si fa la laringettomia totale si deconnette l'albero respiratorio dall'organo vocale. Per poter permettere una fonazione si deve mandare l'aria dalla trachea alla faringe. Il modo più semplice per farlo è quello di creare un tramite mucoso tra la trachea e la parte bassa della faringe e poi mettere all'interno di questo tramite una valvola che impedisce agli alimenti di scendere. Il paziente chiudendosi e quindi deviando l'aria può tranquillamente parlare. Dica buongiorno. Quasi lasciando ad un altro la notte diventi sole diventi sole quasi lasciando quasi lasciando ad un altro la notte. Il futuro è quello che noi abbiamo presentato con Horizon 2020. È un progetto, io ho brevettato uno scaffold per la semina delle cellule staminali per ricostituire una laringe semplificata, ovvero una cricoide con sopra la stante una ritenoide in modo da poter poi ridare al paziente la funzione formatoria degli uditori e la chiusura del buco perché alla fine la cosa più importante è la chiusura del tracheostoma. Calcoliamo che le nostre 520 laringettomie subtotali, cioè pazienti che parlano senza corde vocali, respirano e deglutiscono, sono pazienti che non hanno la tracheostomia ma che hanno una qualità vocale inferiore alla loro perché non si riesce a ricreare uno spazio molto stretto in proporzione alla quantità di aria che passa per avere un eloquio importante.